Nell'ambito della celebrazione del settantesimo anno di Fondazione del Corpo, la Polizia Stradale di Cosenza ha organizzato una giornata dedicata ai giovani proprio sulla sicurezza al volante, con la partecipazione degli alunni del Liceo Pitagora di Rende. In 500 hanno affollato il Teatro Rendano. Ogni giorno sulla rete stradale italiana si registrano mediamente 10 morti e 700 feriti, tutti vittime di incidenti in buona parte causati dalla distrazione. Lo smartphone è diventato il più temibile nemico dell'automobilista, soprattutto i giovani lo utilizzano alla guida non solo per telefonare ma anche per chattare, e quei pochi attimi spesi a guardare lo schermo anziché la strada finiscono spesso col risultare fatali. Nel corso dell'iniziativa è stato inoltre proiettato il film Young Europe, una pellicola prodotta dalla Polizia di Stato in cui si intrecciano le storie dei giovani europei accomunati proprio dalla triste esperienza di un incidente stradale che cambierà per sempre le loro vite. La manifestazione è stata coordinata dal comandante provinciale della Polizia Stradale di Cosenza Giovanni Francesco Spina. Nessuno di noi deve pensare solo e soltanto alle norme e alle regole come un paletto fastidioso. Le regole ci garantiscono la libertà di poterci muovere, la libertà di poter tornare a casa ogni sera. Ma parlare ai giovani è il metodo migliore, forse quello più sano e più efficace. far comprendere, far sorgere nelle loro coscienze una maggiore consapevolezza, una maggiore capacità di valutare ciò che è bene e ciò che è sbagliato. Questa cultura dell'essere perennemente online, del chattare, del dover rispondere, dell'essere sistematicamente in contatto con gli altri è una cultura che quando si guida deve essere messa da parte. Salvatore Bruno per la Cineus 24